Questione ambientale nella piana di Venafro. Sul monitoraggio stiamo ancora al punto zero. Il nuovo affondo del consigliere comunale PD Stefano Buono non risparmia proprio nessuno. Intanto, come rimarca il leader dell'Associazione Politico-Culturale Partecipazione Democratica, la media dei valori delle polveri sottili delle ultime settimane in città continua a far registrare sforamenti oltre i limiti di legge. Che fa la Regione? Cosa fanno gli altri? Si chiede Buono. La spiegazione della inerzia degli enti preposti della Regione in primis e di chi aveva promesso cose diverse è inspiegabile. Noi non possiamo dimenticare che a gennaio del 2020, a Palazzo Cimorelli, in un tavolo istituzionale commocato in seguito alle pressioni della pubblica opinione, delle associazioni che da sempre si battono sul territorio per il diritto alla salute, ovviamente Toma e il sindaco Ricci avevano promesso cose precise, con un cronoprogramma preciso, sei mesi per ristallare nuove centraline e anche mobili e tutta una serie di ulteriori analisi per avere la situazione chiara. Sono passati tre anni, gennaio 2023, e non è dato sapere se è stato fatto qualcosa. Ma il vulnus inaccettabile è che la cui assenza del registro dei tumori rappresenta il simbolo di questa inerzia della politica, che è un caso unico in Italia, è rappresentato dal fatto che le seduzioni non ci consentono di avere un monitoraggio che ci consentirebbe di avere una situazione chiara, rispetto alla quale poi potrebbero prendere gli ulteriori provvedimenti. A tal proposito noi, autofinanziandoci con l'Associazione Partecipazione Democratica, con Meteo in Molise ed altre amiche ed altri amici, abbiamo lanciato il progetto Monitoriamo, che da poche settimane è perfettamente funzionante, ed abbiamo installato due ulteriori centraline. Questo rappresenta un elemento di novità, a mio giudizio, per tre ordini di motivi. Il primo è che monitoriamo anche il PM1 e monitoriamo anche i picchi, avendo rilevazione ogni due minuti di ciò che accade. Il secondo è la diversificazione geografica. Le centraline Arpa insistono entrambe su zone troppo trafficate, la nostra e anche nel centro storico. Il terzo segue un principio, che se c'è la volontà politica, c'è organizzazione e un minimo di capacità, le cose si fanno in tre mesi e non in tre anni, promettendo ai cittadini cose che poi non si realizzano mai. Si fanno in poco tempo, in un lasso di tempo breve, e con quanti soldi? A voi quanto è costato? Non ho io la rendicontazione precisa, ma si parla di più di qualche migliaia di euro. Dopodiché, per un ente come la Regione, dare dei finanziamenti molto più ingenti, ma anche di qualche centinaia di migliaia di euro, all'Arpa, che oggettivamente è una situazione di carenza strumentale, sarebbe un'operazione non difficile per un ente che ha un bilancio di quasi un miliardo di euro. Perché le risorse per l'ente di protezione ambientale regionale non ci sono, invece? Questa l'inevitabile domanda. Questa l'inevitabile domanda.